Il nostro progetto è il nostro progetto. Il nostro progetto è il nostro progetto. Questo è uno di questi bambini in cui si guarda la prima idea e ora è quasi in formazione. Realizziamo abitazioni e case per gli albi e le piante, oltre che per gli umani. Si voleva regalare un'architettura, che è una cosa piuttosto straordinaria perché regalarsi un'architettura capita tutti i giorni. Hanno cominciato ad accendere le luci ed è diventato una sorta di lanterna all'interno del campus. Il tuo luogo lo devi camminare, lo devi ascoltare ed è lui che ti dice cosa vuole. Grazie. 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 Grazie.